E la cosa particolarmente interessante è che i personaggi quando si muovono nella casa, cioè il film è pieno di raccordi sul movimento, è come se uscendo da una stanza entrassero in un'altra stanza, escono da una camera, dallo sguardo di una camera, entrano in un'altra camera, sotto lo sguardo di un'altra camera. E la cosa che fa Glazer al montaggio è una particolarità completamente anticinematografica e completamente invece televisiva, televisiva nel senso proprio del reality show, nel senso che qualsiasi montatore sa che per fare un raccordo di movimento, quando un personaggio esce dal campo e entra in un altro campo, tu devi togliere dei frame per dare la naturalezza del movimento. Invece Glazer li lascia tutti questi frame.